ok eccoci qua di martedì un altro martedì in diretta mamma mia ragazzi questa volta due settimane che non facevamo una diretta quindi ci siamo presi delle pause siamo presi delle pause pasquali allora condivisione solo camera esatto il microfono funziona il video lo vedo e piano piano aspettiamo un po e vediamo se sale qualche spettatore dopo questo questa pasqua piena di novità piena di interessanti cose tra l'altro da oggi ricominciano gli sconti sui corsi di da vinci resolve e ricominciano non direttamente con dei codici miei ma con codici di collaboratori esterni e sta cosa qua mi piace tantissimo perché abbiamo la possibilità di utilizzare i codici e le amicizie di instagrammer e di e di follower e anche di youtuber che pubblicizzeranno un po la parte corsi facendo facendo anche la la pubblicità e facendo danno mi la possibilità insomma di avere un po di visibilità anche nei loro canali così magari insomma si riuscirà a trovare qualcosa mentre aspettiamo che si connetta qualcuno io volevo organizzarmi perché la domanda che mi ero posto oggi vediamo se trovo dove 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 facebook la domanda che mi ero dove l'ho messo non trovo più l'argomento ma avevo pubblicizzato che facevo una diretta mi ricordo più non vedo la pubblicità su facebook eccoci qua aspettiamo un pochino ancora siamo a 5 benvenuti a tutti quanti e salutiamo già il nostro mickey che è arrivato online aspettiamo qualcun altro che si colleghi nel frattempo io dicevo avevo pensato di fare un qualcosa di interessante con voi nelle prossime settimane e volevo un feedback da tutti quanti voi se poteva essere qualcosa che piaceva anche a voi perché perché io sto studiando come un dannato da vincire solve nella sezione fusion in particolar modo ma proprio perché c'è stata questa grande richiesta di tutorial oltre ai corsi che tra l'altro vi ringrazio tantissimo perché ragazzi non pensavo andassero così bene grazie mille a tutti quanti ma c'è stata una richiesta settorializzata su alcuni punti e alcune domande del sia del corso che ho fatto quindi delle cose che magari non avete capito all'interno del corso ma anche di alcune informazioni che evidentemente io pensavo non fossero così importanti invece mi avete fatto questa grande richiesta vi sviscerò quello che mi avete chiesto e poi mi dite visto che è una live e visto che siamo vis a vis in diretta mi dite che cosa che cosa ne pensate anche voi ciao anche a Ivan buonasera a tutti quanti nel frattempo siamo passati a 8 spettatori quindi dai stiamo un po' salendo allora gli argomenti che mi avete chiesto oltre a quelli del video classici che ho inserito all'interno sia dei corsi gratuiti che quelli a pagamento e anche nei tutorial è un discorso legato alla sincronizzazione audio e video quindi io vi do delle macro categorie datemi voi dei feedback poi non so se tra voi 10 11 spettatori adesso online c'è qualcuno che ha acquistato il corso che se lo sta già guardando che ha avuto modo magari anche già di terminarlo o che di sicuro mister spyro Ivan qualcosa lo ha già guardato perché ne avevamo parlato però comunque quello che non è stato aggiunto nel corso e sappiate che sta sto studiando cat che poi vi darò gratuitamente se avete acquistato il corso quello che vorrei fare come tutorial gratis detta fuori dai denti quindi iniziare a creare delle mini pillole di Da Vinci Resolve perché in italiano non si trova una mazza o meglio si trovano ma si trovano sempre gli stessi che raccontano sempre le stesse cose non c'è un qualcuno che come in America mi vengono in mente JRTV Casey Ferris e altri fanno video settorializzati su piccoli argomenti e mi piacerebbe farli anche a me quindi spero che questa cosa qua possa essere interessante anche per voi mister spyro Ivan dice sono a tre quarti del tab color grande Ivan allora vorrei condividere con voi quello che penso di poter essere in grado di spiegarvi ulteriormente quindi sincronizzazioni mi avete chiesto questa cosa qua di gestire le sincronizzazioni audio e di gestire le sincronizzazioni video cosa sono sono eventuali clip differenti che vengono buonasera Vincenzo intanto buonasera clip che vengono collegate tra di loro però se noi le avviciniamo magari hanno la sincronizzazione dell'audio sballata e ci sono metodi molto veloci con Da Vinci Resolve per andare a uniformare questi clip quindi questo sarà una delle argomentazioni che andremo a sviscerare poi selezione dell'audio e del video sulla media pool quindi diciamo la sincronizzazione anche con multicam che ne so ma adesso sto lavorando per un'azienda che si occupa di corsi per calciatori per allenatori di calcio quindi se qualcuno di voi tra i 14 spettatori che sono online in questo momento si occupa di calcio sappiate che venerdì faccio un corso dedicato al calcio ma proprio da questo è venuto fuori anche questa domanda sincronizzazione multicam con le clip perché perché se noi abbiamo in questo caso mi chiedevano una partita di basket e una partita di calcio però anche un concerto o semplicemente un videoclip e abbiamo più camere all'interno della stessa scena c'è la necessità poi di sincronizzarle si può fare manualmente e diventiamo blu a farlo ma si può fare anche con la sincronizzazione multicam e questo sarebbe il secondo degli argomenti che mi piacerebbe andare a trattare ora ragazzi scrivete se pensate che possa essere interessante o se è una puttanata o se l'avete già trovato e non ve ne frega assolutamente nulla e via dicendo perché mi interessa particolarmente il vostro feedback poi la stop motion mi è stata chiesta io questa cosa qua il freeze frame questa cosa qua non l'ho mai 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 guardata perché non occupandomi di compositing non ho mai avuto modo di neanche utilizzare che ne so after effects però la stop motion magari ve ne mostro una che così vi faccio vedere di che cosa si tratta nel frattempo leggo vincenzo io purtroppo sono a zero perché il computer non me lo permette avendo una scheda video di me allora vediamo se trovo una stop motion qua si togliamo l'audio e condividiamo lo schermo questa qua è una stop motion che andrò a fare come esempio di costruzione proprio della stop motion in questo caso sto utilizzando da vinci 16 ma i corsi li continuerò a fare col 15 perché crasha meno e finché il 16 non è effettivamente a pieno regime non sto neanche ad utilizzarlo a Michele piacciono i mini tutorial in pillole sono contento Michele perché ci stavo pensando da un po' e poi ieri sono andato avanti fino alle 2 a guardarmi tutorial in inglese a destra e sinistra e mi sono preso un po' di appunti dicevo stop motion questa qui è una stop motion che è stata gestita con fusion prima vi faccio vedere come è fatta cioè che cosa salta fuori e poi comando F per fare schermo intero e poi ci diamo un'occhiata assieme e vi faccio vedere che cosa ho fatto ovviamente non le farò online in diretta ste robe le farò registrate e poi farò uscire ste clip gratuitamente nel canale e poi piano piano magari inizierò a proporvi che ne so pacchettini gratuiti di questi di queste mini clip che saranno online di modo che creerò visibilità al canale ma anche la possibilità magari di acquistare già fatti questi preset nell'eventualità vogliate poi utilizzarli faccio play che così vedete di che cosa si tratta questa stop motion magari metto l'audio perché l'audio merita perché c'è anche l'audio qua allora magari non altissimo ok questa è la prima stop motion e questa è la seconda stop motion ve le faccio rivedere perché torno indietro con Jay e questa è la prima quindi vado avanti quindi questa è la prima stop motion in cui si ferma il giocatore e inseriamo appunto le informazioni e poi questa è la seconda stop motion che siamo andati a fare sul giocatore stesso questo è un esempio di che cosa potremmo andare a fare con queste mini pillole Michele Robby buonasera buonasera ciao Robby vi faccio vedere che cosa ho fatto con Fusion in questa pagina così vedete un po' di che cosa si tratta allora questa clip qui per lavorare non è stato neanche una follia il l'intero tolgo le clip che così vedete meglio l'intera diciamo gestione non è non è così estrema c'è il nostro media in che si collega con un merge a un testo che viene color corretto e sul background viene gestito con un rettangolo e poi va in media out quindi insomma non è non è così così folle e di qua invece abbiamo un poligono vabbè che ho aggiunto che è questa parte che vedete qua torno un po' indietro eccolo qua quel rettangolo luminoso che passa vedete insieme alla scritta quindi questa potrebbe essere una pillola di quelle che andiamo che andiamo a fare con Da Vinci Resolve nell'ambito gratuito del canale YouTube quindi iscrivetevi al canale cliccate la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno stop motion e freeze frame quindi poi mi avevano chiesto anche l'inserimento di un time code ma in realtà una cosa che mi è stata chiesta forse ce l'ho di qua vediamo condivisione schermo sempre un'altra cosa che mi è stata chiesta come tutorialino oh ragazzi scrivetemi a che cosa volete perché io ho scaricato delle idee logo per promozione allora qui vabbè ci sono dei loghi in rotazione che sono stati effettuati oggi per la promozione tra l'altro dei corsi di Da Vinci Resolve torniamo in edit e magari mettiamo il mio di ok togliamo questo e questo è quello che avevamo fatto allora leggiamo intanto mentre carica carica fusion qui che ho fatto il cambiamento mi piacerebbe approfondire di più fusion e giocare con gli effetti dove poterli scaricare grazie Ivan in realtà gli effetti te li fai te la cosa figa è quella perché io oggi tipo in questa ti faccio vedere ho scaricato il logo di Da Vinci Resolve ok lo metto a schermo intero così lo vedi questa è la pubblicità che verrà fuori con su Instagram e questo sarà il risultato finale se magari parto dall'inizio invece che dalla fine lo vedete anche quindi una rotazione e il coupon sconto torno indietro e questo è praticamente quello che ho fatto in dieci minuti una rotazione del nostro logo di Da Vinci Resolve la scritta coupon sconto che ruota su se stessa e appunto il codice promozionale che in questo caso per avere lo sconto sui corsi e chiedilo a Tommy per poterlo avere stasera principalmente o quando vi guarderete questo video se sarà ancora attivo questo codice sconto l'idea delle pillole video divisa per argomenti la trovo utilissima bello questo effetto anche l'idea dei pacchetti ottima anche questa dai che a livello italiano non c'è nessuno a certi livelli oh Ivan io spero di fare una roba gradita a tutti e spero anche di crescere anch'io ovviamente perché sapete bene che il mio canale youtube ha 9000 iscritti ma non sono così così seguito o chissà cosa cioè sono sono piccoli sono i fedelissimi diciamo lo zoccolo duro che mi porto dietro sono anche più contento di certe volte di averne pochi ma buoni se devo essere sincero però non vabbè lasciamo stare questo argomento e quindi dicevo 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 l'idea delle pillole interessanti le pillole Floriano ci saluta ciao Tommy mister spiro 10 minuti a me servirebbero 10 ore e poi non uscirebbe così bello ma va là Ivan figurati è tutto è tutto veramente una volta che entrate nel mood nell'idea di come si utilizza poi DaVinci Resolve guarda ti mostro questo tra l'altro non è neanche stato fatto con Fusion perché non c'è non c'è nulla è tutto fatto qui direttamente su Edit tramite Keyframe quindi molto 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 semplice continua di DaVinci e prenderà il volo grazie Floriano me lo auguro grazie per il per la come si dice per il per il buon auspicio ecco grazie mille e cosa volevo farvi vedere oltre a questo avevo detto ah si un altro un altro un'altra cosa fighissima questa sono impazzito mi è piaciuta da matti quando l'ho vista e l'ho voluta subito provare a fare ho tolto la condivisione quindi non vedete una mazza ok eccolo qua è questo qua aspettiamo che carichi il video qui togliamo l'audio perché tanto non ho messo nessun tipo di audio aspettiamo un attimo che carichi il video intanto no altri messaggi non ce ne sono però questo è un uno di quei tutorialini secondo me uno di quelle pilloline che potrebbero piacere perché ho notato che l'utente medio di da vinci cerca la soluzione quando ha un problema non cerca di conoscere tutto il programma perché è impossibile arrivarci quindi cerca le piccole soluzioni al problema cioè voglio fare il video con i messaggini tipo whatsapp che compaiono a pop up allora arrivi sul canale del tommy e se non si inchioda il nostro da vinci perché vedete che da vinci 16 va la mazza maledetto lui si è inchiodato dobbiamo riavviarlo si se è inchiodato se è inchiodato riapriamo da vinci maledetto ho fatto un lavoro ragazzi con da vinci un lavoro della madonna col 16 ho deciso di mettere sul 16 sul fisso il portatile c'è ancora il 15 perché non c'è pezza funziona meglio fin quando non esce la release stabile la beta a lavorarci pesantemente diventa diventa un po' un problema e sono diventato matto sono diventato matto allora fusion test qua deve ricaricare di nuovo la barra la barra rossa che vedete qua sopra per il fusion nel frattempo leggo Ivan che dice pensavo pensa ho provato il 16 ma nel caricamento crasha quindi ho rimesso l'ultima del 15 si Ivan io ho dei problemi non sempre perché sono riuscito a fare un lavoro alla fine però lo sto usando anche per lavoro nel fisso però non è non è stabile versione beta poche balle versioni beta hanno sempre un po' di problemi allora vediamo se vuole dall'alto darci un aiutino questo programma e proviamo a dargli il play eccoli qua quindi questa gestione dei messaggini in questa maniera quindi la possibilità di fare il il pop up di gestire i pop up direttamente vedete collegati tra l'altro perché sono vengono sono pop up all'interno dello schermo ma vengono collegati in tracking vengono tracciati vedete che si muovono all'interno dello schermo e sta cosa qua è molto interessante perché il tracking non c'è solo come tracker classico che abbiamo visto anche nel corso a pagamento ci sarà anche un tracker un planner tracker che è un tracker secondario andremo a vederlo magari nei corsi nei tutorial nei mini tutorial perché sarebbe interessante andare a sviscerare anche questa cosa a me non si è mai aperto una volta dopo 4 volte di fila l'ho disinstallato sì sì ma Ivan te lo consiglio caldamente di rimanere con il 15 per ora finché non esce quello stabile tra l'altro la pagina cat io per ora la sto guardando ma non è che mi sia particolarmente utile ecco qui questo qui è per esempio la pagina dedicata al al tracker che vediamo che vi ho mostrato prima ok quindi con i vari con i vari aiuto come si chiamano con i vari pop up ok media out prendiamolo qua vedete ho la sezione dei pop up ho la sezione di un tracker che è il planner tracker che non è più collegato perché poi vabbè ve lo spiegherò più avanti il fatto del planner transform cioè il planner tracker crea un planner transform ma nulla di di trascendentale è facile da capire e poi appunto vengono fuori queste belle iconcine questi pop up che ci permettono di animare questo questo video allora ritorniamo a schermo intero nel frattempo registrazione voice over da microfono esterno mi è stato chiesto anche questo io come microfono esterno scusate se sentite il rumore ma lo alzo per farlo vedere utilizzo questo microfono qui della samson mi ci trovo benissimo riappoggio ecco con quel microfono lì collegato a computer io riesco a gestire il voice over del riesco a a registrare direttamente con da vinci resolve la traccia la traccia audio mono che o stereo che mi interessa andare a registrare in quel momento voce ovviamente sarà mono anche questa cosa qua mi è stata chiesta quindi fatemi sapere se vi interessa pure questa cosa se siamo in diretta scrivetemelo qui sui commenti se vi interessa se vi viene in mente qualcosa della serie tommi a me piacerebbe fare che ne so il logo tridimensionale mi insegni facciamo un tutorial su quella cosa lì e vediamo se riusciamo a creare un tutorial anche su quello perché appunto alcuni li ho ma altri no non tutti nel frattempo leggo Vincenza che dice scusami Tommaso anche se non c'entra niente nell'argomento di oggi come drone per iniziare mi consiglieresti il Fimi X8 Second Edition non lo so non l'ho ancora provato perché Gearbest ha deciso che non sono interessante come cliente perché mi ha detto non hai ancora 10.000 iscritti al canale e quindi non ti do più niente una volta mi davano la roba adesso hanno smesso perché vogliono un minimo 10.000 iscritti quindi no non lo so non ce l'ho da testare purtroppo il Fimi ho visto qualche altra recensione ma purtroppo le persone che lo hanno recensito ad oggi secondo me non non hanno molta conoscenza sul pilotaggio vero e proprio quindi non ho visto un buon cioè non ne ho visti tanti ne ho visti due di tutorial però non ho visto quello che mi interessava non non so neanche quanto pesi cioè sono dovuto andare o meglio tra le cose che mi interessavano c'era il peso e sono dovuto andare a cercarlo a parte pesa sui 700 grammi mi sembra radames metti il link metto il link di del microfono vediamo se ce l'ho il link del microfono allora penso intendi del microfono non lo so spero tu intendo del microfono si perfetto samson eccolo qua il mio microfono poi 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 a proposito si riesce a fare qualcosa come intro con da vinci si riesce a fare un intro con da vinci assolutamente sì la cosa che dipende da quello da quello che volete fare nel senso non c'è limite basta avere della fantasia quindi un'introduzione può essere legata magari a un'immagine che avete piuttosto che alla scritta non so Tommaso Codolo magari faremo qualcosa con delle scritte e ci inventeremo qualcosa questa me l'assegno introduzioni introduzioni al video esempio scritte ok confusion assolutamente no scusa mi ho perso un pezzo ho visto in rete un effetto di un video che provo a spiegare la ripresa è stata fatta con un drone in cui seguiva un motociclista e si vede che dietro di lui la strada si rompe cercando di inghiottirlo oi 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 dura questa se ci giri il link ce lo guardiamo e ci diamo un'occhiata Ivan perché non mi è molto chiara questa cosa però confusion direi che si possa fare praticamente tutto oh buonasera anche Christian come andiamo tutto bene allora inserimento timecode registrazione voiceover con microfono esterno poi mi avete chiesto ah un'altra cosa che ho scoperto che non sapevo la possibilità e anche questo sarà uno dei mini video di fare dei cut scene detection si chiamano si chiama la tipologia di lavoro ovvero voi avete un unico video grande lungo 10 minuti con tutti i tagli però ce l'avete confezionato o lo scaricate da youtube o insomma il cliente vi gira il file ed è intero e quindi non avete i tagli in mezzo ci perdete del tempo come dei matti a tagliare tutto quanto con DaVinci Resolve con Final Cut con Premiere con qualsiasi programma che andrete ad utilizzare con questo cut scene detection voi dite a DaVinci DaVinci tagliami la clip tagliami il video in tante piccole clip e mettimele ordinatamente in una cartella numerandole dal numero più basso al numero più alto e lui appunto prende la clip il video intero taglia tutte le singole scene e ve le caccia in una cartella automaticamente mi è piaciuto un sacco l'ho usato proprio per un lavoro che ho dovuto fare perché non avevo più il girato diciamo il progetto di DaVinci perché l'avevo fatto con un altro computer e con un altro programma avevo solo il file finito sono riuscito a recuperare così tutti i pezzi di clip singoli Vincenzo diciamo che per fare tutto questo dovresti venire personalmente a casa per un mese ma no ma facciamo dei piccoli tutorial ragazzi facciamo dei piccoli mini tutorial di modo che sei interessato a fare che ne so questo qui che abbiamo detto prima con le con i pop up che compaiono e che vengono e che sono collegati quindi che hanno il tracking perfetto faremo una lezione dedicata a questo ci sarà una mezz'ora un'ora mezz'ora 40 minuti di lezione dedicata al creare la messaggistica istantanea dei pop up l'importante è che voi siate iscritti al canale e che abbiate la campanellina attivata così vi romperò le scatole e vi vedrete i vari video ad cut introduzione al video appena segnato e poi mi avete chiesto mi avete chiesto importazione clip sincronizzazione del video slow motion dei preset in vendita io questa cosa qua vorrei farla devo capire come si esportano questi preset nel momento in cui poi dovete andare a riutilizzarli quindi c'è tipo darvi già questa immagine qua cioè vi scaricate l'opzione messaggistica istantanea quindi chi vuole si guarda il tutorial chi non ne ha balle perché non gliene frega niente di guardarsi il tutorial perché non gliene frega niente ma vuole semplicemente avere la papa pronta può andare sul sito e scaricarsi il pacchettino messaggistica istantanea questa potrebbe essere un'idea ulteriore per farlo quindi dei preset che permettono di velocizzare tutto quanto ciao Tommy rompi rompi pure le scatole bella idea grazie bello salvatore alfa bravo ciao caro e poi mi avete chiesto dove recuperare la musica fria a pagamento ne avevamo già parlato in qualche altro tutorial e quindi direi che addirittura dovrebbe esserci un blog un articolo blog sul mio sito di dove trovare la musica gratuita ma probabilmente potremmo farne un altro gli effetti sonori dove si trovano si trovano di qua io utilizzo moltissimo questo programma che avevo già mostrato l'altra volta che si chiama soundly vi scrivo il nome qui e poi 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 effetti sono registrazione microfono esterno ve l'ho già detto poi tracking lo abbiamo fatto c'è all'interno del corso quello da 149 euro che oggi è in promozione con il codice sconto chiedilo a Tommy codice sconto chiedilo a Tommy per www.tommasoco facciamo così per bit li corsi da vinci di modo che avete anche eventualmente se volete acquistarvi il corso in offerta in promozione lo potete prendere a 99 invece che a 149 Michele ciao Tommy ti seguo da parecchio e merito tuo ho acquistato la gopro 07 grande Michele sono contento che tu abbia speso dei soldi no non è vero però sono contento che ti abbia potuto trasmettere questa passione e poi 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 registrazione audio dicevamo inserimento musica tempo del video tracking del giocatore ce l'abbiamo all'interno del pacchetto a pagamento esportazione e upload mi è stato chiesto come si fa a caricare anche su youtube quindi come creare il canale youtube eccetera questo me l'ha chiesto un'azienda che si occupa di calcio quella che per cui farò poi i corsi questo venerdì questo venerdì non mi ricordo più questo sabato sabato 27 sarò mestre per fare dei corsi sul coaching sull'editing sportivo e montaggio di una presentazione dalla alla z ce l'abbiamo anzi ce l'avete addirittura gratuito è uno dei corsi che potete scaricarvi gratuiti all'interno di all'interno del mio sito www.tomasocodolo.com slash corsi e poi 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 creare un esempio un video con più inquadrature l'abbiamo già detto cioè quello di creare un multicam clip è l'esempio di un montaggio classico non per forza di partite stop queste sono le richieste che mi avete fatto e direi che saranno tutte quante inserite all'interno di questi mini tutorial che andremo a fare tempistiche permettendo perché siamo a fine aprile io direi che vorrei iniziare a registrare questi tutorial non appena mi si libera un po' di tempo partendo da questi vi chiedo la cortesia di illuminarmi voi su qualche tutorial che vorreste avere riguardante Da Vinci Resolve perché come abbiamo detto prima adesso vedo che ce ne sono 17 di persone quindi si è aggiunto qualcuno la cosa interessante che potrebbe esserci è che siate voi appunto a darmi dei feedback dei feedback su che cosa andare a fare io faccio sto corso di editing sportivo al 27 sabato 27 aprile poi sarò a Rimini per il music inside Rimini il 5 il 6 il 7 di sicuro il 6 il 7 perché ho un intervento in cui vado a parlare proprio per il discorso droni ma il 5 probabilmente andrò a farmi un giro andrò con il mio camper con il mio furgone camperizzato in giro per Rimini e e poi quindi dal 5 al 6 al 7 dovrei avere un po' più di tempo libero anche se poi dovrebbe cascare a pennello un lavoro con il drone verso Capri insomma un periodo un periodo pieno di lavoro e di piacevoli di piacevoli gite extra extra lavorative anche in corso a Cesenatico il 18 e 19 comunque in questi buchi di tempo riuscirò sicuramente a creare questi mini tutorial e poi inizierò a tempestarvi di tutorial a manetta quindi rimanete collegati iscrivetevi e cliccate sulla campanellina di modo che vi rompa le scatole come ha detto Salvatore prima rompi rompi pure le scatole bella idea e leggiamo cosa scrivete voi farei anche un corso farei anche il corso ma purtroppo Da Vinci non è in italiano e io non so l'inglese vorrei un programma italiano perché l'inglese per me è come correre al buio allora Michele fai una cosa vai qui c'è un corso gratuito da scaricare c'è intro e workflow e vai a vedere come lavoro con il workflow credimi che non è così difficile utilizzare un programma in inglese se capisci come ti devi muovere soprattutto poi quando ci sarà il corso su cat che è di una semplicità disarmante pure troppo cioè io quasi quasi neanche mi viene da usarlo cat perché non è troppo semplice è troppo per le cose troppo veloci cioè voglio voglio fare le cose un po' più di precisione e cat non lo uso vedrai che anche se in inglese non avrai problemi a capirli oh è gratis il corso costa niente quindi fai un download e vedi se ti piace l'idea 18 spettatori wow ragazzi ma sono così interessanti queste live non pensavo si romperà le balle prima o poi di ascoltare sto cristiano che parla sempre delle stesse cose in realtà parliamo sempre di robe diverse però è piacevole vedere che c'è feedback anche vostro quindi un tutorial su come creare un logo ok quello ce l'ho già ce l'ho all'interno delle richieste un logo poi partiremo da un logo base magari farò un logo con una scritta le rotazioni qualche qualche effetto speciale di comparsa di scomparsa zoom in zoom out e vediamo che cosa salta fuori che così creeremo anche un logo loris cristian io ti voglio a Catania madonna cristian non sai quanta voglia saprei di venire a trovarti porca miseria poi Michele sono anch'io un camerista camperista ah ok camperista non capivo camerista bene cacchio o magari ci vediamo a Rimini si sono un camperista ho un furgone camperizzato da luglio dell'anno scorso sono felicissimo di questo di questo acquisto mi mi sto divertendo come un matto a zingarare in giro per l'Italia con la mia compagna e poi 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 a Bari non vuoi proprio venire a Bari non ci vengo perché è troppo lontano pensa che anche quando facevo i corsi con GoPro non abbiamo mai fatto una tappa a Bari perché non siamo mai riusciti ad organizzare a modo i corsi ci verrei volentieri per piacere però a Bari non è vero non è vero che non vengo aspetta Vincenzo che ti do una data guarda uno scoop in diretta se mi danno l'ok quindi se accettano l'offerta il preventivo che gli ho fatto sarò a Bari non a Bari ma a Polignano a Mare il 28 di maggio vedi vedi che vengo anche al sud poi Michele ok grazie ci provo si te lo consiglio vivamente veramente poi Stefano Stefano scrive cavolo ora non posso seguirti mi rivedo il replay più tardi va bene Stefano ci vediamo dopo tanto insomma le cose che vengono scritte poi che vengono scritte le rileggo e che vengono dette le dico Ivan dice ottimo anche l'idea del logo che con l'intro per video cascano a pennello vediamo cosa salta fuori ragazzi io ci provo vi ripeto Fusion ha un problema enorme allora anche volendo fare un corso professionale di Fusion in Italia non c'è una mazza ad oggi se io sto lavorando ho guardato anche i corsi riconosciuti da Vinci ovviamente intendo dei riconosciuti Blackmagic non li fanno ancora sono tutti o online o appunto tutorial oppure insomma non ce n'è e quindi sto studiando tanto online veramente veramente tanto ho fatto gli ultimi tre giorni ho lavorato solo su Fusion e e mi piacerebbe farli i corsi di Fusion vi non vi nascondo sta cosa perché è è bello è veramente interessante come come programma se sentite il rumore è la pioggia che è iniziato a piovere di nuovo qua ci sarò sicuramente speriamo speriamo che di esserci io e di avere un po' di tempo libero che magari ci beviamo un caffè Vincenzo e non lo so dove sarò Polignano non ne ho la più pallida idea perché non so neanche se mi accettano il lavoro quindi devo prima vedere se accettano l'offerta e poi e poi vedo se se andrà se andrà in porto o meno e ho finito gli argomenti non ho più non ho più domande ai 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 non ho più domande vabbè vi svelo una cosa dai vi svelo una cosa in anteprima visto che siete in 20 spettatori adesso allora andiamo a recuperare questo questa cosa qua e vi svelo che avremo un nuovo codice sconto per i corsi un nuovo codice sconto per i corsi che si chiama chiedilo a Tommy quindi se volete comprare i corsi ve li potete comprare così online e poi ho fatto una come si dice una partnership con anche alcuni alcune testate giornalistiche online per per promuoverli quindi se vedete le pagine le promozioni voi commentate pubblicate condividete che insomma più più va in giro questa cosa meglio è e che altro vi posso raccontare ho finito gli argomenti sul serio sto giro ragazzuoli se avete domande andate pure con le domande perché non so più che cosa raccontarvi ho terminato le cose da dirvi la cosa che vi devo che vi voglio ricordare comunque a prescindere torniamo di qua a schermo intero è che se state valutando di utilizzare come avete visto ci sono spesso e volentieri dei crash inaspettati che che potrebbero che potrebbero dar noia all'editing vero e proprio quindi consiglio spassionato rimanete per ora almeno con il 15 finché non esce la release stabile del del 16 vediamo se ho qualcos'altro da mostrarvi mentre oh fatemi domande ditemi se volete qualcosa in particolare con i vari tutorial che ci siamo che mi sto che sto proponendo radams mi chiede da vinci o premiere a mani basse da vinci secondo me radames perché premiere a pagamento quindi già quello fa pensare che potrebbe non essere una scelta valida non una scelta valida ma una scelta interessante se magari non lo fai proprio per lavoro ma poi non ha tutte le potenzialità di da vinci diciamo che come color correction lavora molto meglio da vinci come editing è più facile da 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 vedere da vinci premiere non l'ho non l'ho utilizzato cioè non sono capace di montare con premiere l'ho visto utilizzare ma ho visto che è molto lento come programma è un programma che anche se sei magari su un computer portatile devi sempre fare dei proxy file devi devi far lavorare tantissimo il computer prima di iniziare possibili utilizzi cioè parti da media ti sposti su edit inizi a fare il montaggio poi ti sposti su fusion fai tutta la compositing 3D ti sposti su color per fare tutta la parte di color correction color grading e diciamo applicare dei look personali fairlight se sei un appassionato di audio hai anche tutto il reparto audio no vince da vinci secondo me su premiere poi non riesco a trovare il 15 perché mi manda sempre sul 16 vincenzo vai giù in basso sulla pagina support support e trovi il 15 vi faccio vedere come si fa a trovare il 15 guarda questa è una cosa utile che potrebbe interessarvi allora recupero una pagina internet qua allora facciamo schermo intero ok www.blackman vabbè cerchiamo da vinci resolve così da vinci resolve esatto black magic products da vinci resolve in basso giù 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 qui in basso c'è dove è finito qua support support center vedete cliccate su support center e vi apre questa pagina andate qui latest download vedete e avete da vinci 16 studio beta da vinci 16 public beta da vinci studio studio non fusion studio scusatevi studio non andate a scaricarlo perché studio è quello a pagamento scendi 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 eccolo qui da vinci resolve 15.3.1 però è la versione studio quindi è quella a pagamento e qui sotto c'è da vinci resolve 15.3.1 la versione normale per mac per windows o per linux del 5 aprile del 2019 così riesci a scaricarti quella lì vincenzo direttamente ok cosa ne pensi di filmora michele di filmora io filmora l'ho utilizzato è un programma comodissimo però è un programma cioè ha troppa non ti permette ha tutto tutto già pronto non ti permette di lavorare cioè ha una marea di come si chiamano di di preset da buttare su quindi è molto comodo se devi lavorare on the go però non è un programma che secondo me può essere paragonato a da vinci resolve c'è una professionalità diversa dietro da vinci resolve non è male filmora è veramente intuitivo io pensa che lo avevo valutato prima di scegliere il programma di da vinci resolve per fare i corsi online ancora quando si pensava quando si lavorava ancora con gopro studio con gopro quando gopro studio è stato dismesso ho deciso di spostarmi e la scelta era da vinci resolve o qualcos'altro o meglio era che cosa trovo e tra le varie cose che ho cercato ho trovato filmora e ho imparato ad utilizzarlo filmora e mi è piaciuto molto però poi ho provato da vinci resolve e è stato amore a prima vista dio buono mi pagassero mi dessero almeno una licenza gratuita quelli lì di black magic porca vacca per tutta la pubblicità che gli faccio vabbè allora cosa ne pensi di filmora te l'ho detto michele free space tommy che ne dici di fare un meeting di tutti quelli che stanno utilizzando da vinci una giornata di svago dove si possono conoscere colleghi e nuovi amici mi piacerebbe un sacco free space lo stavo pensando settimana scorsa e avrei piacere di farlo non so mi piace l'idea che hai dato di gestirlo come meeting perché non è un un corso cioè è proprio un ritrovo mi piace lo metto tra le cose da da pensare di ragionare da fare sì 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 poi floriano di nuovo ho un problema con gli archivi lavoro su hard disk esterni su vari computer e puntualmente quando passo da computer all'altro non riesco a caricare gli archivi non riesce a caricare gli archivi perché e qui te lo faccio in diretta apriamo da vinci di qua non riesce a caricare gli archivi perché devi andare qua floriano sulla rotellina qui in basso tolgo la mia faccia così vedete meglio scusatemi condivisione sullo schermo qui in basso dove c'è appunto la rotellina ti si apre questa pagina qua su master settings qui in basso devi andare a gestire questa parte qua delle working folders qui e devi dirgli cache location cache file location e gallery still locations dove andare a gestirle per il singolo per il singolo hard disk quindi come puoi ben vedere io la mia cache file location ce l'ho in un hard disk che è sandisk ssd 480 dentro la cartella movies mi ha creato cache clip per le stills sempre sandisk 480 movies mi ha creato un file nascosto che si chiama appunto gallery poi oltre a questo ti sposti anche su capture and playback qui in alto questo serve a tutti ragazzi è interessantissimo quindi 16 spettatori state attenti e guardatevi questa cosa si va un po' in giù dove è eccolo qua save clips to per quanto riguarda il capture anche qui volume sandisk movies sotto la cartella capture che ho creato all'interno del mio sandisk difatti se vado ad aprire ora il mio sandisk 480 vedete che all'interno di movies ho la cartella cache clip dove mi registra tutta la cache e la cartella capture dove mi ha registrato i vari file del del caso se ti sposti da computer a computer gli dovrai dire su quali computer ti sposti sui computer in cui ti sposti quali sono i file scusami gli hard disk che utilizzi quindi esco da qui mi sposto su da vinci resolve preferences e su media storage gli dirò i vari hard disk che vado ad utilizzare quindi volumes sandisk ssd 480 movies però magari su questo utilizzo sto portatile ma utilizzo un altro hard disk secondario ad esempio che ne so il mio qua non ne ho altri attaccati però ad esempio questo ok lo attacco al computer vado a dargli add e vado a inserirgli il secondo hard disk che vado ad utilizzare per la mia gestione dei file non gli do ok adesso perché non mi interessa gli do in questo caso uno storage location diventerebbero due piuttosto che tre quattro e a seconda di quelli che gli mancano cioè non trova il sandisk 480 iniziale perfetto andrà su quello successivo poi su quello successivo poi su quello successivo e via dicendo ok spero di averti risposto Floriano poi Mario scrive faccio aerofotogrammetria con un Mavic 2 Pro cerco un'app che permetta una griglia in un piano non orizzontale ben sinclinato forse drone harmony grazie ti consiglio drone harmony lo sta utilizzando il mio collega Fanelli ed è molto molto soddisfatto del programma ci sono più opzioni di licenza tra l'altro c'è una licenza intermedia e una licenza completa già nella licenza intermedia puoi utilizzare piani inclinati dacci un'occhiata vale ne vale la pena Mario Soldano Vincenzo fatto grazie mille prego Vincenzo Ivan pensa credevo che la 1523 fosse l'ultima ora scopro che esiste la 1523 la scarico subito si Ivan se sono stabili ne vale la pena di scaricarle se non sono stabili assolutamente no Lele Aspro sei il numero 1 guarda guarda Lele solo perché mi hai detto che sono il numero 1 guarda che cosa ti faccio guarda guarda ti faccio una marchetta dov'è cacchio non trovo la marchetta per Lele Aspro aspetta guarda che marchetta video finiti porca miseria sono lento sono lento non riesco a trovarlo eccolo qua ecco la marchetta per Lele Lele Aspro ok torniamo di qua allora è quando Lele mi scrive quando cerco di portare un video sulla timeline mi inserisce solo l'audio ma non mi fa inserire il video cosa potrebbe essere potrebbe essere che non hai permessi per scrivere dentro alla timeline dentro con quel computer Lele io credo sia quello prova a spostare i file in un altro hard disk magari in un hard disk esterno e prova a rivedere quello che avevo mostrato prima qua il media storage no scusami si il media storage all'interno di DaVinci Resolve preferences scusami così DaVinci Resolve non me lo da più vabbè di qua su playback and capture e controlla le clip dove vengono salvate e su capture and playback e anche su master settings qui in basso cache file location qui in basso dove sono io con il mouse e controlla queste entrate queste queste cartelle perché se non hai permessi potrebbe crearti problemi il computer ok Floriano grazie grande Tommy grazie prego Floriano Mario molte molte grazie prego Mario assolutamente spero di esservi utili ragazzi ogni tanto salto dal pomo al pero da DaVinci Resolve ai droni e via dicendo però funziona vedo che mi seguite e Lele Aspro posso assicurare a tutti i ragazzi e ragazze che state seguendo la live che i corsi con Tommy hanno veramente i loro hanno veramente i loro frutti approfittatene grazie Lele ti ringrazio sei un tesoro Lele è uno dei ragazzi che collabora con me quando facciamo i corsi in giro per l'Italia collaborato quando lavoravo con GoPro e chi lo sa magari anche con i prossimi corsi ci salta il momento di matto e decidiamo di fare dei corsi in giro per l'Italia brandizzati Tommaso Codoro o magari viene Blackmagic direttamente con tutta la pubblicità che gli faccio magari mi danno due soldi e facciamo un megacorso italiano Ele è un filmato che già in working cioè prima già faceva hai aggiornato al 16 hai aggiornato da Vinci 16 quello potrebbe essere il problema non lo so la butto così se no non saprei proprio dirti che altro accidenti abbiamo raggiunto il 19 34 avevo paura di non arrivare alla fine di questa giornata Ele è il 15 cacchia non ti so dare una risposta così su due piedi io l'unica cosa che farei è appunto controllare i permessi di amministratore e vedere che cosa ti dice Lele sicuramente ci sarò non avevo dubbi Lele e niente dai ragazzi è giunta l'ora di salutarci perché sono le 19 34 vedo che gli spettatori sono calati drasticamente a 11 da 20 22 che eravamo prima quindi vuol dire che state andando tutti a mangiare e quindi vado a mangiare anch'io magari mi bevo un prosecco alla vostra salute ricordatevi che le prossime settimane quindi usciranno questi nuovi questi nuovi mini tutorial se avete delle idee qui sotto c'è info chiocciolatommasocodolo punto com qui sotto lo vedete che può essere un buon indirizzo email per raccontarmi che cosa pensate di poter cioè che cosa vorreste come tutorial su DaVinci Resolve perché poi le idee finiscono cioè un po' ne ho ma poi finiranno e niente alla prossima purtroppo devo lasciarvi ah vado via anch'io Vincenzo ormai abbiamo terminato la nostra oretta insieme cin cin alla prossima Ele grazie anche a Ivan e grazie a tutti come al solito per avermi seguito anche in questa live ciao ragazzi buona serata a presto ciao ciao grazie a tutti